ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi ci troviamo a cinto euganeo e stiamo per affrontare il sentiero che parte da cava bomba e arriverà fino alla bussa dei briganti sarà un giro ad anello adesso andiamo e vedremo come venite con noi ciao segnalia numero 11 e e e e e e e bene siamo arrivati al primo video e andiamo verso il monte cinto eccoci qua siamo in cima al monte cinto monte cinto siamo stesi dal monte cinto e adesso andiamo verso la busa dei briganti qua siamo a pianoro delle masegne e si continua di qua sempre segna via numero 11 siamo arrivati al buso dei briganti e 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 il nostro giro ad anello che ci riporta al parcheggio a dopo eccoci a risalire di nuovo in questo sentierino come va lì dietro? ci sei? sì 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 e 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 due ore due orette due ore più o meno facile e tranquillo panoramico e niente alla prossima avventura